ben a tutti i ragazzi bentornati sul nostro canale ed un nostro nuovo video come al solito io sono Gaby, io birillo, oggi andremo a far rivedere il nostro nuovo liquido, vai birillo e sponicelo Allora, della Super Flower, si chiama Pride Superbia, è un liquidozzo che al suo interno c'è, vaniglia, burro d'arachidi e tabacco bagnato nel barbore Un liquidozzo 70-30, nuovo formato 50 ml più 10 chi ci vuole la nicotina Lui a zero, bello carico per sentire bene l'aroma E ora andiamo a fare la prova di questo liquidozzo Andiamo a vedere la boccetta, sempre le solite boccette Unicoli così Icotina Free, nuove miscelazioni, sono già miscelati da loro, sono un pochino più Tutta un po' diversa, un gusto un po' Già prendo si sente l'odore di burro d'arachidi, di nicotina Molto forte, si sente molto potente questo odore qua di burro d'arachidi Tipo quelle creme americane che si spavano su toast Andiamo a fare una prova Io sul Ghani con Joy Limiter S24 E io sul Profile Andiamo a vedere Bydry, Pagabry, questo nuovo liquidozzo Cosa senti subito? Così a primo impatto Burro d'arachidi e nocciolino Poi un po' di vaniglio Non si sente molto il tabacco, non è invasivo, anche da Claudio come lo stiamo svappando ora E' buono comunque Particolare questo mix di ingredienti Però mi piace Prevale il burro d'arachidi Burro d'arachidi, si Però vaniglia e tabacco si sono proprio leggeri Sono un po' più leggeri però per me il day è buono Tutto il giorno ce la faccio la svappalla Anche così da Claudio O in qualche boxeta Lo metti un po' Anche con una resistenzina un po' 0,89 Così di canta la 1 Anche la billet è uno svappi Anche un po' da guancetta ci sta Ci sta Sarebbe da provare poi da guancia Comunque un ottimo liquido Noi consigliamo Vedi che voto ci dà? Un 8 Anch'io un 8 Sì, solo merito Una bella miscelazione di questi nuovi liquidi Della linea super Siamo sempre trovati bene Lo consigliamo Preso da svappo caffè Ricordiamo Marina di Caracca Molicciara E la spezia Andate a trovare Grande cri Allora data vera dello svappo è tutto Se il video vi è piaciuto lasciate il like Iscrivetevi al canale E ricordatevi che abbiamo la pagina su Facebook Su Instagram Fra poco vi faremo un video Dalla nostra meta preferita dell'anno Passo del tonale E vi teremo aggiornati su altri liquidozzi E robetta varia Allora vi aspettiamo Ciao